Ciao ragazzi, benvenuti nella seconda parte di Lazio-Napoli e adesso siamo al sessantottesimo minuto del secondo tempo con Mario Luì che si è fatto male boh, boh, boh dai ragazzi, siamo sul risultato di 2 a 1 per il Napoli adesso bravo la laccia che attacca, guarda, c'era il mobile il ballone è dietro, falla sul mobile, calcio di punizione per la laccia tensione, balla in mezzo, colpa di testa, meretto vieni a vedere, papà, vieni a vedere che ha fatto questo adesso, ma te lo farò rivedere prima è vecchio, mi chiudo prima vostra ecco a te mamma mia bello, cioè, o dico, era sul tuo palo, però bellissima palata è bello, no, sì, bello no, ticciolaccio, no, no, il mobile, no ma tu, ok, l'abbiamo ripresa attenzione, il padre però si venne, o si venne? Vittorio, orca troppo calcio d'angolo per il Napoli, attenzione, attenzione schema, va dietro, Mario Rui il pallone per Raspatori che la mette in mezzo non ci arriva quel cazzillo non ci arriva attenzione Polita, Messier, Messier Polite Nero Polita torna indietro, perché torna indietro attenzione, pallabona, Elmas la mette per Raspatori, attenzione, raspa, raspa, raspa cos'è successo, carambola in aria, carambola ma da che casino bravo, chissà che la risolvi ma bravo, porca pupazza, porca e questo è il primo video forse del mio canale dove non ho detto farlo forse sì, vabbè comunque l'ho tagliato perché sono forse così vabbè comunque ancora i due euro vai vai Elmas deviata in angolo dai oh dai che buona, dai che buona dai vabbè ti lorenzo ti lorenzo non ce l'ha affatto il pallone che passa, la recupera il quartiere no no ok niente di cura no 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 attention no madonna e fallo e invece no c'è vittoria c'è vittoria madonna no no porca vai vai cristo dai e non è una peste mi ha detto solo cristo io dai ti prego porco di quel canne ti prego dai mario mi stai farete un soldo no guarda mario attenzione il pallone per politano 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 di lorenzo batte in mezzo calcio d'angolo per il napoli attenzione batte politano palla in mezzo colpo di testa troppo alto addio silente palla fuori attenzione alla lazio attenzione alla bravo chi minchia è calcio d'angolo palazio hai capito palazio ma che sei da roma ma che sei da lazio no perfetto attenzione alla lazio minuto numero 84 bravo in calcio d'angolo madonna di quella donna stava segnando da calcio d'angolo ma meno male fammelo rivedere madò che cu ancora calcio d'angolo per la lazio quindi è stata ripiata la palla quindi stava segnando da calcio d'angolo porco bue ma la dentro bella no scusate 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 ma che stava di mo segna di nuovo questo qua al volo Pedro e intanto è morto racmani dai regà perdete tempo perdete tempo perdete tempo dovete perdere tempo dovete perdere il tempo così ce la facciamo a vincere almeno cioè almeno spero dai perdete il tempo dovete perdere bravi 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 no 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 bella fuori 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 qui vai Victor prova da lei ok va bene ci sta ci sta ci sta minuto 88 ci sta un botto dai ragazzi Ho cambiato l'inquadratura così c'è più luce Fallo su di Lorenzo Fallo su di Lorenzo Qua abbiamo i cassetti A caso Vai Sarò con te E tu non vedi mollare Abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna campione Oh 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 Sarò con te E tu non vedi mollare Abbiamo un sogno nel cuore Vediamo quanto da di recupero Vediamo un po' Quattro minuti di recupero E mo' segnala Lazio Madonna stava per segnare per un pelo Cosa ho detto? Po 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 No Bravi rega Ma no Vi amo Mi amo Un giorno all'improvviso Mi innamorai di te Il cuore mi batteva Non chiedermi perché Di che buono è passato E sono ancora qua E oggi come allora Gli prendo la città Difendo la città Basta Basta Stavo al novantatresimo Stavo al novantatresimo Escite Escite tutto Emin e Scarpini Fate qualcosa Signori La partita finisce qui Vince il Napoli 2 a 1 contro la Lazio E torniamo ai 3 punti Finalmente sono riuscito a fare una reaction Dopo 3 giornate perse E finalmente abbiamo vinto ragazzi Abbiamo vinto Ce l'abbiamo fatta Vai così Come al solito ragazzi Vi chiedo di iscrivervi E di lasciare un bel like E di attivare la campanella Noi ci vediamo in prossimo video Bella Fa anche di male